Essere un buon cristiano, andare a messa, fare opere di misericordia, pregare, educare bene i figli sta bene, ma entrare nel mistero di Gesù Cristo è di più, è una grazia che non puoi controllare e lasciarsi andare nell'abbraccio dell'amore che lo portò alla morte per noi, nella gratuità del suo perdono. Nell'omelia della messa del mattino a casa Santa Marta, Papa Francesco ha commentato il passo della lettera di San Paolo ai Romani proposto dalla liturgia nella prima lettura, che sembra una cosa confusa, con contraposizioni, disobbedienza, grazia, giustizia e perdono, perché non ci sono parole per spiegare Cristo e il suo mistero. A messa sappiamo che Gesù viene, che è nella parola di Dio, e preghiamo, ma questo non basta per entrare nel mistero. Entrare nel mistero di Gesù Cristo è di più, è lasciarsi andare in quell'abisso di misericordia, dove non ci sono parole, soltanto l'abbraccio dell'amore. L'amore che lo portò alla morte per noi. Quando noi andiamo a confessarci, perché abbiamo peccati, sì, devo togliermi i peccati, diciamo, o che Dio mi perdoni i peccati, andiamo, diciamo i peccati al confessore, e siamo tranquilli e contenti. Ma non abbiamo, se facciamo così, non abbiamo entrato nel mistero di Gesù Cristo. Se io ci vado, vado a incontrare Gesù Cristo, a entrare nel mistero di Gesù Cristo, a entrare in quell'abbraccio di perdono, quale parla Paolo. Quella gratuità del perdono. Grazie. 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 Grazie.